Ok, ci siamo? È condiviso? Sì? Ok, perfetto. Allora, ragazzi, siamo arrivati al terzo ed ultimo per quanto riguarda noi, perché noi abbiamo deciso di fare solo i profeti minori. Quindi questo sarà l'ultimo profeta di questo primo periodo, che è stato, che abbiamo introdotto dicendo questo era il periodo dell'oro, cioè un periodo che in qualche modo nell'VIII secolo a.C. il popolo di Israele si era trovato a vivere un periodo un po' più stabile, in cui le forze che di solito si opponevano a Israele, la Siria, eccetera, e la Siria, erano un attimo in stallo tra di loro a decidere chi era il più potente. E quindi in stallo tra di loro hanno lasciato un po' in pace Israele, che insomma aveva gustato veramente un periodo florido. Abbiamo visto come di questo benessere però non avevano fatto un buon uso in realtà. E quindi Dio manda i suoi profeti, manda Amos, manda Osea e anche i loro messaggi hanno queste sfumature diverse l'uno dall'altro, però sono fondamentalmente messaggi di giudizio per diversi aspetti. Se ce ne vengono in mente alcuni, l'ultima volta con Osea abbiamo parlato anche del discorso delle alleanze politiche, abbiamo visto molto con Amos anche il discorso dell'ingiustizia sociale che c'era, abbiamo visto ovviamente c'era anche l'idolatria, c'era il voler essere come gli altri, c'era anche il confidare sulla propria forza, sul proprio esercito. Quindi abbiamo visto che questi profeti cercano di mettere in evidenza tanto quelle che veramente erano, come il popolo si era allontanato da Dio e il fatto che il giudizio di Dio era imminente. Abbiamo anche visto che in ognuno c'è sempre una parola, una sfumatura di speranza in qualche modo c'è. C'è sempre una parola che parla di come Dio però un giorno restaurerà quello che era il suo piano iniziale. Ma adesso il messaggio era voi siete, vi siete così allontanati dal piano che Dio aveva per voi che Dio ha deciso di giudicarvi. A chi erano rivolti questi due profeti? Abbiamo visto che loro si rivolgevano principalmente al nord, anche se a volte accennavano anche il sud, ma il nord era quello preso più di mira, anche perché il nord non era ancora stato sconfitto. Loro hanno predicato, profetizzato, scusate, più in un periodo vicino, noi avevamo visto che Osea, che era quello più vicino ancora quasi alla caduta di Israele, il nord, ma non era ancora caduto Israele. Quindi lui, però era molto più vicino di Amos, quindi lui veramente stava cercando, era molto più forte in quello che stava dicendo e in quello che si dovevano aspettare. Michea, adesso lo scopriremo, è il terzo. Vi dicevo, non è proprio l'ultimo perché in teoria c'è anche la prima parte di Isaia che comprenderebbe questo periodo. Però, come ho detto, noi Isaia poi se vorremmo un giorno di ora, però noi ci fermeremo con Michea. Dopo Michea invece passeremo a Naum e passeremo a un altro periodo, che è invece il periodo dell'esilio babilonese. Quindi ecco, questo guardiamolo come wow, chiudiamoci. Oggi è un momento non solo per vedere Michea, ma veramente dentro di voi deve rimanere. Io so che Osea, Amos e Michea ci sono di quel periodo, quella era la condizione di Israele, soprattutto il nord è quello che doveva succedere al nord. Ma adesso vedremo che Michea, che invece profetizza dopo che il nord è caduto, continua ovviamente a far vedere, a parlare del nord, di quello che accadrà. Ma parla anche al sud, parla anche a Gerusalemme. Tant'è vero che Michea è in realtà del sud. Io vi ripeto un po' le cose perché mi piacerebbe proprio che diventassero quasi quotidiane. Se vi ricordate, avevamo visto che Amos era del sud, ma predicava al nord, cosa molto antipatica per quelli del nord. Invece Osea abbiamo visto che era del nord e predicava al nord, ok? Questo invece è del sud e in realtà predica sia al nord che al sud, però il sud è molto preso di mira, ok? Molto, lo vedrete, lo vedremo. Quindi innanzitutto il primo versetto, e questa è una delle domande che vi avrei fatto, cosa potevate già, dal meccanismo che abbiamo creato noi, leggendo questi profeti, cosa possiamo già capire, senza essere grandi, cosa possiamo già capire dal primo versetto? Perché il primo versetto dice la parola dell'Eterno che fu rivolta a Michea, il Murashita, ai giorni di Jotam, di Acas, di Ezechia, re di Giuda, e che egli ebbe in visione intorno a Samaria e a Gerusalemme. Come al solito il primo versetto ci dà tante informazioni, quindi ogni volta che leggete un profeta, fermatevi un attimo e vedete se la prima parte vi dà delle informazioni che vi possono aiutare almeno a inquadrare. Qui ce lo dice chiaramente, queste sono profezie che riguardano Samaria, il nord, e Gerusalemme, il sud. E già, wow, allora capiamo a chi si sta rivolgendo. Il villaggio, Murashita, cioè da cui li viene, questo magari non lo potete subito sapere da qui, ma basterebbe un minimo, di solito una nota biblica ve lo dice, sta nel sud. E' un, come metto qua, è un piccolo villaggio rurale a sud ovest di Gerusalemme. Anche qui, cominciate a inquadrarlo, abbiamo fatto questa differenza già tra Amos e Osea, no? Avevamo detto che uno era più il campagnolo, e invece Osea, di cui si cita il padre, era probabilmente di una famiglia più rinomata. Lui è di un piccolo villaggio, quindi abbiamo di nuovo una figura umile. E' nei pressi qua di Gerusalemme. Dopodiché vediamo appunto, quindi, di chi, di chi, di dove è, e dopodiché vediamo il periodo storico, perché qui dice che lui predica i giorni di Giota, Macaz e Zechia, re di Giuda. Anche questo è interessante. Se vi ricordate, le altre volte di solito si dicono sia il re di Giuda che il re di Israele, no? Magari si dicono in questo periodo a nord c'erano questo re, a sud questo, a nord questo. E invece lui cita solo quelli del sud. Quindi questo ci fa capire che anche se lui si rivolge anche al nord, il sud è sicuramente il suo target principale. Ok? Piccole cose, mi piace dirvele solo per dire wow, così vi, quando leggete, sapete che ci sono piccoli indizi che possono almeno aiutarvi ad inquadrare e a capire. Il periodo storico, quindi, detto da questi, cioè indicato da questi re, andrebbe a finire tra il 730 e il 700. Adesso questo ovviamente, quello che vi dirò adesso, non è qualcosa che potete subito capire da un versetto, però ecco perché facciamo lo studio, così invece vi aiuterò ad inquadrare meglio veramente cosa sta accadendo in questi anni. Prima di fare quello, un'ultima cosa su questa slide. Cosa vuol dire il nome Michea? Michea è chi è come Yahweh? Chi è come Dio? E la cosa bella è che il nome di questo, ecco, leggendo, e questo ne parlo di più nell'altro studio, cioè leggendo questo libro viene proprio fuori che il messaggio di Michea e di tutto questo libro è un po' come per dire ma chi è come Dio nella sua giustizia, nel suo perdono, nella sua compassione, in quello che lui chiede, chi è come Dio, no? C'è proprio quest'idea che Dio è proprio al di sopra e al di là di tutto quello che il popolo di Israele poteva vedere offerto intorno a lui. Questo è un messaggio molto bello che dobbiamo tenere in mente. Allora, andiamo al periodo. Cosa sta succedendo? Perché abbiamo visto che questo influisce tanto, sostificato il messaggio. Cosa sta succedendo intorno a Michea quando lui profetizza? Allora, questo bel periodo del, il periodo dell'oro, come si chiamava, insomma, tutto bello, eccetera, in realtà di Giuda comincia a decadere. Eh ragazzi, tutto, tutte le cose così, insomma, i periodi, notatelo nella storia di qualsiasi paese, sono i periodi alti e poi arriva il periodo basso, i periodi alti e poi il periodo basso. E anche qui funziona così. Perché comincia a decadere? Perché nel 745, ora, ho messo le date, voi spero che non vi confondano, però voglio rendervi il senso. Che succede? Il famoso regno di Assiria, che finora si era un po' equilibrato col regno della Siria, tenuto a bada, comincia invece ad acquistare potere. Sale un re bello forte e questo re comincia a dire no, noi gli Assiri siamo i conquistatori. Cosa comincia a fare? Nel 738, e uso il mio cursore per farvi vedere, comincia a, praticamente, a usare il pugno duro, no? E ad imporre, per esempio, dei tributi. Quindi, sia al Regno del Nord, sia alla Siria, lui comincia a dire se voi volete stare tranquilli, mi dovete pagare un tributo. Questa è una cosa, ragazzi, che il mio professore mi piace notare, nel senso, forse è scontata, però la si vede tanto ed è molto intelligente. Lui dice, se voi ci noterete anche qui, i popoli, gli Assiri, in realtà, non erano interessati a fare una guerra, perché una guerra costa a qualsiasi popolo. Cioè, costa pure i morti loro, gli costa i soldi, gli costa tante cose. Quello che interessa a un popolo è avere il dominio sugli altri, e in particolare avere i loro soldi e le loro ricchezze. Per cui, in genere, funziona così. Il popolo viene, dice, se tu vuoi stare tranquillo, mi paghi un tot e io ti lascio tranquillo. E questo è quello che la Siria ha fatto. E all'inizio, anche il Regno del Nord, i rei dicevano, va bene, va bene, ti paghiamo, però lasciami essere il re, lasciami in pace. Che succede, però? Nel 730, e questo l'abbiamo detto l'altra volta, e alcuni di questi qua non gli piace tanto che devono pagare il tributo all'Assiria e dicono, forse se ci riuniamo insieme, riusciamo a bloccarlo. Quindi, si forma questa alleanza. Vi ricordate? Il Nord di Israele, la Siria, i Filistei, cercano di convincere anche quelli del Sud. Questa è la famosa guerra siro-fenicia. Cioè, fanno guerra al Sud perché volevano anche loro, dalla parte loro, contro gli Assiri. Il Sud non si allea con loro, ma anzi chiede agli Assiri di aiutarli. Gli Assiri, ovviamente, si arrabbiano, perché chi era sotto di loro si sta ribellando e sta cercando di ribellarsi, e quindi da qui l'Assiria diventa violenta. Ok? Fanno scatenare l'Arabia dell'Assiria nel 730. Quindi cosa accade? 34, 32, vabbè, più o meno il trenzo, ma più o meno c'è questa campagna militare che coincide con questo periodo. In questa campagna militare, Damasco, che è la capitale della Siria, distrutta. I Filistei, che si erano alleati pure loro contro la Siria, le loro capitali, eccole qui, guardate. Abbiamo Gaza e Ascalon qua giù, quindi abbiamo Damasco qua su, poi sconfidono Gaza e Ascalon qua giù. Poi si prendono una bella fetta del nord di Israele, la conquistano, e poi tutti gli altri, Giuda, Edom, Ammon, Moab, tutti questi popoli gli devono pagare un tributo. Mi cominciano a usare la forza, cominciano a... Adesso io vi chiedo di immaginare di essere Giuda o Israele e di vedere questa potenza che intorno a voi sta dominando tutto. Tutto. A un certo punto il regno del nord cerca un'altra volta di togliersi questo potere di dosso, si allea con l'Egitto contro gli Assiri, questa volta gli Assiri sono stanchi, dicono questi non capiranno mai, per cui nel 722 la famosa data in cui il regno del nord scompare, gli Assiri vengono, distruggono Samaria, distruggono tutto, si portano via un sacco di esuli, portano lì altri e praticamente il regno del nord finisce. Finisce. Ma vi noto, ogni volta in seguito ad una ribellione quando non volevano accettare di stare sottomessi a questi popoli. Michea è in questo periodo, Michea sta vedendo tutto questo accadere. Nel 701, una ventina di anni dopo, il sud cosa fa? Cioè a volte cosa fa? Cerca anche lui di opporsi al dominio della Siria, perché intanto il sud il tributo lo doveva pagare. Cerca di opporsi, ma questa volta c'è Sennècarib che è il re, lui fa una razzia nel sud e distrugge, guardate, qui c'è Gerusalemme, vedete la stellina? Lui fa tutto un percorso intorno, l'Akish, questo vedrete voi, tutto intorno a Gerusalemme, distruggendo tutto, facendo veramente un'opera orribile. Arriva a Gerusalemme, se vi ricordate, è il famoso episodio in cui c'era il re Ezechia, che chiede a Dio di difendere, di proteggere Gerusalemme, e Sennècarib non riesce in quel momento a distruggere la capitale. Quindi Giuda, diciamo, è ancora un regno, con un re, ma è un re vassallo, un re che comunque deve pagare il tributo, ok? Ma è ancora, ancora sussiste. Allora, questo è il quadro in cui Michea profetizza. Quindi, rispetto agli altri, adesso loro hanno visto quello che gli assiri possono fare, hanno anche visto le conseguenze sul popolo del nord, eppure, sembra che ancora Michea ha bisogno di comunque denunciare e far capire qual è la situazione. Opa, sono andata indietro. Ok, vediamo allora come si struttura un po' questo libro, il suo messaggio. Allora, questo rispetto agli altri ragazzi, questo che vi dicevo, a parte il primo versetto che l'abbiamo visto e ci dà tutte queste belle informazioni, ok Michea, ti abbiamo inquadrato, questo è un libro molto più lineare. Questo libro ha tre messaggi. Mi spiace che non l'avete già letto, perché comunque ha tre messaggi. Iniziano col famoso Ascoltate o popolo di Israele, no? Quindi dà questo senso. E questi primi messaggi, quindi il capitolo 1-2 inizia Ascoltate o popolo di Israele, il capitolo 3 inizia Ascoltate o capi di Giacobbe, e il capitolo 6 anche inizia sempre con una fase De Ascoltate e ciò che dice l'Eterno. Quindi quando leggete questo capitolo bello, molto più facile di Osea, vi ricordate Osea che zompettava da una parte gli ultimi capitoli erano un continuo rimescolare di temi, vi ricordate? Quindi era un po' più difficile. Michea no, Michea è molto più strutturato. Se lo leggete ve lo gusterete un po' questa armonia. Non solo è strutturato in tre messaggi che iniziano chiaramente con De Ascoltate, la parola dell'Eterno, ma ognuno di questi messaggi è molto bello, perché inizia col giudizio e finisce con un messaggio di salvezza. Inizia con un messaggio di giudizio e finisce con un messaggio di salvezza. Inizia con un messaggio di giudizio e finisce il messaggio di salvezza. E un'impressione che ho avuto io questa volta, quando l'ho riletto proprio per preparare questo per voi, ho visto come il messaggio di salvezza, ragazzi, è molto più dettagliato, c'è molto di più in Michea rispetto agli altri due. Vi dico solo che due capitoli interi, il quattro e il cinque, sono dedicati a descrivere la restaurazione e la salvezza. Quindi, se vi ricordate, Amos aveva solo quel pezzetto alla fine. Vi ricordate Amos, tranne qualche frasuccia, solo alla fine, tant'è vero che molti pensano che forse neanche lui l'ha scritta quell'ultima parte, perché era l'unica parte di speranza. Quindi Amos inizia proprio duro ed è all'inizio, quando ancora si stavano godendo tutto il benessere e lui deve proprio essere duro. Poi arriva Osea. Anche Osea è bello duro, tant'è vero che deve arrivare. Però in Osea vediamo questo ciclico, promessa di restaurazione, ciclicamente arriva fino alla fine quando è veramente concreta. Qui è ancora più presente questo messaggio di salvezza, perché, ripeto, ad ogni giudizio c'è un bel concreto messaggio anche di salvezza. Quindi questa è una cosa che potete ricordare del libro di Michea. E io credo che sia così perché siamo in un periodo dove il giudizio in parte l'hanno già visto e vissuto. Cominciano ad aver bisogno di capire, di sapere di più che c'è anche una restaurazione in vista per loro, no? Abbiamo parlato tanto del discorso di punire, non punire, come funziona. C'è un momento per essere molto duri, poi tu vedi quando è il momento che devi anche far vedere la restaurazione di tutto, altrimenti la persona sotto di te crolla completamente. Quindi Dio ha questo modo. E in Michea c'è un forte, veramente forte, messaggio di salvezza che si alterna in questi tre cicli. Allora, il capitolo uno, anche questa è un'altra cosa, io ve lo voglio far vedere proprio come c'è un, dicono, pattern, tipo un modello che si ripete un po' nei profeti, perché così ogni volta che li leggerete voi lo rivedrete questo modello e vi aiuterà ad inquadrarli. Spesso i primi capitoli e i primi capitoli vi danno, come dice qua, preparano il palco, in inglese, setting the stage, no? Vi dicono un po', vi aprono un po', dice, di questo parleremo, questa è un po' la situazione, cioè, ti dico, se vi ricordate in Amos l'abbiamo visto, vi ricordate quella famosa predica che lui fa partendo dai nemici lontani, poi quelli più vicini, poi quelli più vicini, no? Lui prepara il suo popolo all'ascolto. E poi l'abbiamo visto con Osea. Il libro inizia con questa allegoria di questo matrimonio, di questa prostituta, di questo, no? Inizia con qualcosa che ci dà il senso e poi il libro lo elabora. E anche Michea ha un po' questa cosa. Il primo capitolo getta le basi per il libro, un po' come hanno fatto il libro di Amos, il libro di Osea e forse troveremo in diversi altri libri spesso, forse solo un versetto, forse un capitolo, forse due o tre capitoli, ma di solito c'è qualcosa all'inizio che ti dà il sapore di quello che poi, o comunque sai, quasi il tema, ecco, che poi tu scoprirai. Allora, la prima cosa, noi troviamo nel primo capitolo, in questi primi versetti, una potente teofania sul discorso del giudizio di Dio. E vi leggo questi versetti, ok? Lui dice, innanzitutto, vabbè, il versetto 2, spero che, vabbè, non l'avete letto, però spero che possiate riconoscere sempre quel concetto che c'è anche in un altro passo in questo qui del tribunale, quando qualche volta si usa il linguaggio di tribunale, perché Dio è come se dice, io ho una contesa, io voglio discutere qualcosa che qui non è andato bene, c'era un patto, non è stato rispettato. E il versetto 2 dice, ascoltate i popoli, presta attenzione o terra, quindi i popoli e la terra sono chiamati a prestare attenzione, il Signore sia testimone contro di voi, il Signore dal suo Tempio Santo, quindi c'è questo linguaggio, mi piace tanto, perché Dio è come per dire, io non sono un Dio capriccioso, come gli dèi che le vostre nazioni intorno a voi adorano, io non sono quel tipo di Dio, io non sono il Dio che se una mattina si sveglia storto, vi fa capitare qualcosa di sbagliato, allora forse vi dovete tagliare o dovete sacrificare un figlio o dovete andare da una prostituta o dovete fare qualcosa per ringraziarmi, io non sono quel tipo di Dio, io non sono quel tipo di Dio così, che ha le bizze, se qualcuno di voi ha fatto un po' di mitologia greca, sa veramente questi dèi greci erano veramente umani, cioè con le stesse reazioni umane all'ennesima potenza, spesso quelle negative anche molto, gelosia, Dio dice io non sono così, Dio dice io invece, io sto qui per fare una causa su delle basi vere, giuste, cioè qui c'è un torto e io il torto ve lo devo far vedere, penso che sia molto importante che capiamo questo, questo aspetto di Dio, versetto 3, ecco l'Eterno esce dalla sua dimora, scende e cammina sulle alture della terra, i monti si sciolgono sotto di lui, le valli si squarciano come cera davanti al fuoco, come acqua versate su un pendio, tutto questo per la trasgressione di Giacobbe e per i peccati della casa di Israele. Ecco, qui abbiamo subito, abbiamo queste immagini, la vedete, cioè a volte dico noi non ci fermiamo abbastanza a capire le immagini, teofania ovviamente è più una manifestazione di Dio o comunque a volte un racconto di Dio sotto quasi una forma umana, o comunque una forma è un Dio che esce dalla sua dimora, è un Dio che cammina sulle alture, quindi vuole darci quasi questa immagine, sappiamo bene che Dio è spirito, però a volte soprattutto nelle forme poetiche ci vogliono dare queste immagini, quasi questa manifestazione di Dio. Sentite, questo Dio solo che cammina sui monti e sulle alture i monti si sciolgono, no? Le valli si squarciano, cioè se un profeta viene da voi, cioè viene oggi, capite, e vi dicesse ragazzi, Dio è sceso sulle colline di Fondi, capito? Le colline si sono squagliate, la valle di Fondi si è squarciata e il mare lo ha inondato, tutto questo per il peccato della Chiesa che è a Fondi. Immaginate di sentire un messaggio del genere, è un messaggio forte, un messaggio di giudizio e subito percepisci che c'è qualcosa, c'è una questione molto importante e subito secondo me Michele ti dà un senso della giustizia di Dio. Questo è un libro che sicuramente ci parla del senso di giustizia di Dio. Ok? Quindi questa è la prima cosa che volevo farvi notare, quando lo leggete gustatevelo proprio nella sua bellezza. Poi è bello perché continua ma qual è la trasgressione di Giacobbe? No? Oppure quali sono? Qual è il problema? Quindi capisci che adesso il libro, il profeta, sarà lì a far capire il problema. Quindi lui inizia, parla anche di immagini scolpite, però parla di guadagni di prostituzione, parla di... Lui dice proprio per questo io metterò lamenti e io giudicherò, no? E poi nel versetto 10 al 14 c'è un gioco di parole. Ragazzi, questo è anche molto carino che non lo cogliamo in ebraico. Questi poeti che trovano queste forme, ho cominciato a non disprezzare così tanto, diciamo così, la mia classe di... sull'omiletica che sarebbe la predicazione, no? Perché ti dicono sempre no, tu devi sempre iniziare con un'immagine perché devi cogliere l'attenzione, dicevo ma che stanno a dire ma che sono ste cose, capito? Articolato. Però vedo che è una strategia, i profeti la usavano tantissimo, tanto. Usavano molto l'idea di creare delle immagini, delle cose per attirare l'attenzione del loro pubblico. Sentite qua, quando nel versetto 10 leggiamo non annunziatelo in Gath, non piangete affatto a Bethlehafra, rotolatevi nella polvere e poi continua, passa oltre in vergognosa nudità a Bethlehafra e c'è tutta una lista ragazzi che quando la leggete, ecco qui c'è anche l'Akish che vi dicevo geograficamente dove era posta, che quando la leggete dite vabbè non capisco insomma. Allora vi spiego, in realtà questi paesi, queste città sono tutte quelle città intorno a Gerusalemme che sono state distrutte dagli assiri, che sono state poi attaccate dagli assiri e lui fa un po' un gioco di parole e vi ho cercato di pensare a degli esempi per farvi capire il senso. Allora lui prende delle città che hanno nel nome, nel suono ebraico del nome, un certo significato e fa un gioco di parole e vi faccio un esempio. Sarebbe come se lui vi dicesse non annunciatelo a torre annunziata, capito? Cioè l'idea torre annunziata dovrebbe essere un popolo dove magari le cose vengono annunciate? Beh, non annunciatelo lì. Oppure, sentite che mi sono inventata, non ci sono più fondi per quelli di fondi. E lì questo sta facendo, e voi state, noi siamo lì che ascoltiamo. Non c'è più sapore alla spezia, capito? Ha perso il sapore. Oppure, le ali sono state tagliate all'aquila, ok? Lui fa questo. in questi quattro versetti dove lui c'è questo elenco di città e queste cose che lui dice che noi non capiamo molto bene, lui sta facendo questo. Quindi le persone che l'ascoltano, se tu non ci sono più fondi per quelli di fondi, cioè ti senti subito comunque preso, senti un senso di giudizio sulla tua città e c'è questo gioco di parole. In tutti questi giochi di parole lui ovviamente esprime questo senso di giudizio, no? Oppure ecco, le ali sono state... Non so se è vero, ho cercato di pensare, ma tu pensi, il nostro professore ci ha fatto proprio pensare a delle città che hanno un significato e pensare come avrebbe questo profeta per quella città espresso un giudizio di Dio, no? Ecco, a me sono venute in mente queste, un poco Stefano, ci siamo cercati di sbizzarrire, ma sono sicura che ne potremmo trovare tantissime, no? Quindi lui inizia così, Michè inizia così, un senso della presenza di Dio, del forte giudizio, io vengo qui e chiamo il tribunale perché ho da dichiarare qualcosa e Dio che scende i monti che si squagliano, le valli che si squarciano e lui che dice non c'è più speranza, ecco, non è annunciato, non ci sono più fondi, non c'è più sapore per la spezia, le ali sono state tagliate all'aquila, quindi sta dicendo ragazzi, qui c'è distruzione e giudizio per tutti. E così inizia, certo inizia con un sapore difficile, però come dicevo ovviamente poi si alterna sempre anche un momento di restaurazione, ok? E inizia con tutte le cause e va avanti. Allora, ho voluto adesso a questo punto, dato che vi ho detto che sono tre messaggi che a questo punto si alternano, quindi lui qui ha gettato le basi, nel primo capitolo caspita, sappiamo cosa aspettarci. Allora, in ognuno di questi tre fasi lui darà dei giudizi e dei motivi per cui Dio è arrabbiato. Dio viene in giudizio ma non viene così. Dio ha dei motivi. Non è il Dio capriccioso che si è svegliato, si è alzato dalla parte sbagliata del letto. È il Dio che viene e dice ci sono dei motivi. Quali sono? Quali sono quei motivi che Michea mette veramente in evidenza? Uno è questo, lo sfruttamento dei poveri da parte dei ricchi. Allora, abbiamo già visto, no? Altre volte un po' l'ingiustizia sociale, i poveri che vengono quindi non è un tema nuovo. Però in Michea pare che è proprio accentuato quest'idea che quelli che hanno tolgono a quelli che già hanno poco e non hanno. Cioè proprio lo sfruttamento da parte del ricco e del potente nei riguardi di chi è povero e di chi è più indifeso. E ragazzi, anche qui alcune immagini, scusate, io punto molto su questo ma perché vorrei che imparassi a gustarvi proprio l'immagine della poetica e la metafora che i profeti usano. Sentite cosa dice qua, questo nel capitolo 3, 1 e 4. Divorano la carne del mio popolo e gli strappano la pelle di dosso, ne rompono le ossa e lo fanno a pezzi come carne in una pentola, come lesso in una caldaia. e nel capitolo 7 dice le loro mani sono pronte al male, per il male, il principe avanza pretese, il giudice si lascia comprare, il grande manifesta la copidigia. Quindi è molto chiaro qui, una cosa che, e questi sono alcuni esempi, tutti questi versetti che ho messo qui, sono tutti, come vedete, nel capitolo 2, nel capitolo 3, nel capitolo 6 e 7, quindi tutti e tre i messaggi lui toccherà questo giudizio, su questa cosa, lo sfruttamento che in particolare i ricchi, cioè quelli che hanno, cioè quelli che non hanno vengono sfruttati da quelli che hanno. E come vi ho già detto altre volte ragazzi, questo non è un tema nuovo. Io credo che nella nostra società, ma proprio a livello mondiale, oltre che a livello forse più locale, questa è una cosa molto grave che accade. E credo che come Chiesa almeno dovremmo cercare di stare attenti a non favorirlo, a non partecipare consapevolmente a questo. in qualche modo lo facciamo già ragazzi, noi siamo nella parte dei sfruttatori, cioè come continente, come paese, cioè noi già stiamo dalla parte degli sfruttatori, della parte di questo mondo che invece è quella che già non ha e che viene sfruttata da noi. Quindi il nostro benessere ragazzi, è inutile che lo neghiamo questo, mi dispiace qualcuno, però il nostro benessere costa, cioè viene pagato dal malessere con lo sfruttamento di altri, Però noi ci troviamo qui, io dico solo, come Chiesa, secondo me un credente dovendo essere una testimonianza di quel tipo di società che Dio vorrebbe, almeno dobbiamo cercare di essere consapevoli per quanto possiamo e quando lo sappiamo, capito? Quando cerchiamo di evitare almeno di partecipare o di incoraggiare questo, cerchiamo di trovare quelle vie che ci permettano di essere un po' più fedeli al pensiero di Dio e scampare forse, ecco, dal dover sentire un giorno Dio dire anche a noi che da ricchi ci abbiamo tranquillamente sfruttato che era più povero senza farcene un problema, ok? Quindi questo è solo un discorso di essere sensibili e assolutamente dentro la Chiesa questo non dovrebbe mai succedere, all'interno delle comunità cristiane non dovrebbe mai succedere questo, mai. E lo sfruttamento può essere non solo materiale, può essere uno sfruttamento di potere sugli altri. Tant'è vero che la seconda cosa molto forte che voi vedrete ripetersi, mettiamo qua giù, è, e qui torniamo a un discorso che abbiamo anche visto un po' in Osea, è quello dei leader, il giudizio dei leader politici e religiosi. Sono veramente sotto accusa. e anche qui mi piacerebbe leggere, uno, capitolo 13, così dice il Signore contro i profeti che fanno traviare il mio popolo, che annunziano la pace, se hanno qualcosa tra i denti da mordere, ma a chi non mette loro niente in bocca dichiarano la guerra. Quindi per voi sarà notte invece di visioni, tenebre per voi invece di responsi, il sole tramonterà su questi profeti, oscuro si farà il giorno su di essi, i veggenti saranno ricoperti di vergogna, gli indovini arrossiranno, si copriranno tutti il labbro perché non hanno risposta da Dio. Mentre io sono pieno di forza, io Michea, con lo spirito del Signore di giustizia e di coraggio per annunciare a Giacobbe le sue colpe e il peccato e a Israele il suo peccato. Allora qui il giudizio è molto forte e ripeto ragazzi io vi sto citando alcuni ma quando leggerete Michea vedrete che questo è un tema molto ricorrente. Questi profeti cosa fanno? Profetizzano, allora se tu mi paghi io ti profetizzo quello che vuoi. Tu mi paghi? Ah io ti profetizzo pace. Se non mi paghi allora ti profetizzo sventura. Quindi i corrotti che dicono quello che la gente vuole sentire e Dio dice quindi io non vi parlerò più. non vi manderò più nulla e mi piace tanto questo come come Michea dice mentre io io sono pieno di forza con lo spirito del Signore di giustizia e coraggio. Vedete il tema della giustizia? E il coraggio perché quando devi annunciare la giustizia ragazzi bisogna avere coraggio per difendere la giustizia ci vuole sempre molto coraggio e lui dice io le annuncerò le colpe di Giacobbe il suo peccato. Ricordatevi a volte l'atto di amore più grande che potete fare non è quello di predicare cioè di annunciare quello che l'altra persona vuole sentire ma di dire veramente se Dio è se c'è un giudizio di Dio su quello che qualcuno sta vivendo facendo di dichiararlo perché è l'unico modo che puoi avere la speranza di salvare quella persona o di farle cambiare strada altrimenti la incoraggi solo in quello anche quest'altro passo molto bello non profetizzate ma devono profetizzare non profetizzare riguardo a queste cose ma non si terrà lontano l'obbrobrio era come se le persone dicessero ai profeti ma no per piacere zitti non ci dite che Dio ci giudicherà ma come no non è che se non lo dicono queste cose non accadranno e se uno che insegue il vento e spaccia menzogne che dicesse ti profetizzo in virtù del vino e di bevanda inebriante questo sarebbe un profeta per questo popolo dice questo popolo sapete chi vuole? vuole uno che si ubriaca e che gli dice tutto quello che gli vuole Dio cioè loro seguirebbero più volentieri questo che una persona veramente ispirata dallo spirito di Dio che però gli dice cose scomode i suoi capi giudicano in vista dei regali i suoi sacerdoti insegnano per lucro i suoi profeti danno oracoli per denaro e anche qui ragazzi l'abbiamo già affrontato credo che sia qualcosa che troviamo a volte cioè a volte anche come chiesa preferiamo scegliamo chi vogliamo ascoltare oppure ho letto una cosa molto triste ultimamente molto triste un mio professore ha messo un post su Facebook che riguardava proprio Osea perché io ero molto cioè ho trovato carino perché ne avevamo appena parlato noi ed era proprio il passo sui leader dove lui diceva ai sacerdoti voi state guidando dove non c'è visione il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza e quindi c'era tutta questa cosa e lui in questa cosa faceva tra virgolette una critica in senso in generale diceva non è che anche nella chiesa americana i leader insomma si sono così corrotti che alla fine non stanno aiutando neanche il popolo alla chiesa ad essere la chiesa che deve essere e una delle persone che ha commentato in questo post ha detto chiaramente questa cosa mi ha fatto tanta tristezza ha detto ma perché tu non pensi che noi vorremmo invece di stare a pensare a costruire la chiesa più grande perché aveva fatto questi esempi invece di stare a pensare a soddisfare le voglia non vorremmo predicare il Vangelo e fare altro dice ma poi lo stipendio chi ce lo dà noi dobbiamo accontentare i membri della chiesa quello che loro vogliono cioè noi dobbiamo fare se no io rimango senza poter sfamare la mia famiglia cioè questo per dirvi ragazzi un commento sincero cioè di una persona che diceva proprio come per di si vedeva quasi le mani legate e diceva proprio noi dobbiamo soddisfare quello che le persone vogliono quindi ditemi voi quanto attuale può essere Michea cioè anche per noi e quanto siamo in qualsiasi momento in un ruolo di dover dire a qualcuno questa cosa è sbagliata o ti farà del male o farà ricadere il giudizio idioso di te o quello che sia cioè dobbiamo comunque annunciare la verità ma ci vuole coraggio e la giustizia di Dio non è una cosa da niente soprattutto non è una cosa da prendere alla leggera è una cosa molto seria molto seria diverso il giudizio dal diverso il mio giudizio a una persona dal mio dichiarare se Dio giudica una certa azione o no sono due cose diverse su questo questo profeta è molto chiaro sulle azioni che vengono giudicate andiamo avanti ovviamente c'è anche tutto l'aspetto invece della salvezza quindi c'è il giudizio e quei due aspetti secondo me sono molto forti ma c'è anche salvezza e anche qui ho trovato molto bello un po' i temi di questa salvezza perché secondo me c'è una certa correlazione tra i motivi del giudizio di Dio e quindi come abbiamo visto i ricchi che sfruttano i poveri e poi abbiamo visto la corruzione di chi deve insegnare e guidare e poi guardate che bello nella descrizione della ristorazione della salvezza guardate cosa troviamo secondo me viene molto fuori chi non ha ed è stato sfruttato si troverà ad essere ristabilito Michè è dove troviamo in quel giorno dice il Signore radunerò gli zoppi raccoglierò gli sbandati e coloro che ho trattato duramente e degli zoppi io farò un resto degli sbandati una nazione forte il Signore regnerà su di loro sul monte Sion da allora e per sempre e poi dice il resto di Giacobbe sarà in mezzo a molti popoli come ruggiada mandata dal Signore come pioggia che cade sull'erba che non attende nulla dall'uomo e nulla spera dai figli dell'uomo mi piace questa immagine della rivista di Dio che viene a portare giustizia quando Lui la stabilirà gli zoppi quelli che che l'hanno avuta peggio quelli che in qualche modo hanno avuto il trattamento peggiore sono quelli che verranno riabilitati sono quelli che verranno restaurati e arriveranno a un punto mi piace questo non si aspetteranno nulla dall'uomo non spereranno nei figli dell'uomo perché prima il povero che sperava nel ricco veniva sfruttato il povero che sperava che qualcuno si prendesse cura di lui riceveva schiaffi e Dio dice arriverà il momento in cui questo non accadrà più perché io lo ristabilirò e lui dovrà spererà in me e io provvederò e non riceverà più questo trattamento quindi questo è un tema bello lo vedrete ci sono anche altri passi ho citato alcuni e l'altro ragazzi se il problema è che il popolo non ha una buona guida guardate cosa accade alla fine il popolo finalmente avrà una leadership che li guiderà nella fedeltà a Dio e qui vi chiedo un attimo non potete farne a meno di non pensare un attimo allora come Gesù poteva essere visto e aspettato dal popolo di Israele qua c'è scritto alla fine dei giorni il monte del tempio del Signore resterà saldo sulla cima dei monti si innalzerà sopra i colli affluiranno adesso i popoli verranno molte genti e diranno venite saliamo al monte del Signore al tempio del Dio di Giacobbe egli egli ci indicherà le sue vie e noi cammineremo nei suoi sentieri perché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore perciò Dio li metterà in potere altrui fino a quando colei che deve partorire partorirà e il resto dei tuoi fratelli ritornerà i figli di Israele egli starà e pascerà pascerà l'idea di un pastore ragazzi di un pastore che veramente si prende cura non come sacerdoti e come profeti egli pascerà con la forza del Signore con la maestà del nome del Signore suo Dio abiteranno sicuri perché egli allora sarà grande fino agli estremi confini della terra qui vediamo una leadership qui vediamo uno che pasce il suo popolo qui vediamo uno a cui tutti i popoli vengono perché lui gli indicherà la via cosa che mancava cosa che i sacerdoti e i profeti e i leader del popolo non erano stati capaci di fare e non stavano facendo allora Dio dice io provvederò questo al mio popolo e sapete tutti che in Michea c'è la famosa profezia tu Betlemme frata anche se sei piccola fra le migliaia di Giuda da te uscirà per me colui che sarà dominatore in Israele le cui origini sono dai tempi antichi dai giorni eterni tutti sappiamo come questo lo vediamo realizzato in Cristo Gesù è venuto come quel re come quel signore quel dominatore che avrebbe portato avrebbe insegnato veramente la via di Dio non come gli altri sacerdoti e gli altri profeti e avrebbe portato questa questa indicazione sarebbe stato questa guida questo pastore per il suo popolo quindi due cose da una parte Dio vi giudicherà perché i ricchi sfruttano chi non ha e lo fanno come strappando la pelle di dosso e mettendola in una caldaia e mangiandosela questa è l'immagine due i vostri profeti cioè voi preferite che un ubriaco vi viena a dire le cose voi non volete sentire la verità i vostri profeti vi dicono quello che volete si fanno pagare per quello che vi dicono io sono l'unico che profetizza da parte di Dio con la forza dello spirito e vi dico che c'è il giudizio ma voi non mi volete ascoltare la salvezza tutti gli zoppi tutti quelli sfruttati saranno ristabiliti e Dio provvederà a quello che gli serve non dovranno più dipendere da nessun uomo che li sfrutterà e per quanto riguarda la guida voi avrete una guida vera che vi insegnerà la via del Signore voi avrete qualcuno che veramente vi potrà guidare e non sarà come questi profeti e queste sono queste immagini ripeto io se fossi stata al popolo di Israele in quel periodo sperando che non ero dalla parte degli sfruttatori tutto quello che avrei voluto e desiderato era questo cioè se tu mi davi un'immagine di questo genere di un regno dove io avrei avuto veramente una guida che mi insegna a camminare per Dio vera e qualcuno che invece di sfruttarmi provvede a me questa era l'immagine di restaurazione e di salvezza per i miei tempi e per la mia situazione un'ultima cosa però secondo me che esce fuori molto in Michè che è bello da notare c'è anche un concetto poi di giustizia universale che verrà ristabilita ok e pensateci Gesù è tutto questo no Gesù è venuto ha colto chi ha colto ha colto i poveri ha preso quelli no quelli di fuori lui è proprio si è definito quel pastore che viene a prendere lo zoppo a guarire chi sta male è diventato il re colui che è sovrano ma c'è anche lui che tornerà per portare la giustizia universale quindi se non è accaduto tutto nella prima venuta di Cristo però tutti questi concetti ci sono nel tempo e nel concetto della restaurazione sentite questo egli sarà arbitro tra molti popoli pronunzierà sentenze fra numerose nazioni dalle loro spade forgeranno vomeri e dalle loro lame falci nessuna nazione alzerà la spada contro un'altra nazione non impareranno più l'arte della guerra siederanno ognuno tranquillo sotto la vite e sotto il figo e più nessuno li spaventerà perché la bocca del Signore degli eserciti ha parlato ogni volta che voi nella Bibbia trovate il Signore degli eserciti sappiate che c'è un riferimento al Dio che porta la giustizia a livello anche mondiale delle nazioni quindi ricordatevi sempre da una parte Dio sta parlando a Israele per il suo compito e per quello che deve fare però e gli dice io manderò gli assiri che ti puniranno perché tu stai sbagliando ma poi lui si ampia e dice io porterò un giorno il tempo in cui tutti questi regni che oggi hanno la forza e gli eserciti non ci sarà più niente di questo ci sarà solo la pace non ci sarà più questo guerreggiare lui farà smettere ogni cosa e in quel giorno dice il Signore c'è anche la punizione di violenti io distruggerò i tuoi cavalli questo è diretto agli assiri i tuoi cavalli in mezzo a te manderò in rovina i tuoi carri distruggerò le città della tua terra demolerò le tue fortezze ti strapperò di mano i sortilegi non avrai più indovini distruggerò in mezzo a te le tue sculture le tue stelle ne più ti prostrerai davanti ad un'opera delle tue mani estirperò da te i tuoi pali sacri distruggerò i tuoi idoli con ira e furore farò vendetta delle genti che non hanno voluto obbedire quindi pace universale da una parte punizione per chi ha usato la violenza e per chi invece di ascoltare il signore ha combattuto e ha distrutto e ha portato sofferenza e dolore per un proprio interesse personale come nazione quindi questa giustizia Dio la garantisce nel suo tempo in cui tutto è ristabilito questo ci sarà e io continuo a dire che credo che ancora oggi in una misura lui fa sempre sì che questo accada non permette mai ad un potente di diventare così potente da dominare tutto il mondo c'è sempre questo equilibrio che lui restabilisce quindi se dobbiamo dire Michea in una frase o in comunque le parole che ci potrebbero ricordare un po' il senso che troviamo in Michea è un libro che ci dice che l'ingiustizia di Israele e di Giuda si scontrerà in modo forte e netto con la giustizia di Dio l'ingiustizia di Israele e Giuda che viene descritta molto dettagliatamente con tante immagini in tutte e tre i messaggi si scontrerà in un modo forte e netto con la giustizia di Dio che ci viene descritta con altrettanta forza e altrettanta bellezza sia come giudizio ma sia come restaurazione e salvezza tant'è vero che Michea finisce con questo passo bello bellissimo se ne dire dove ma chi è come il nostro Dio ci sta proprio bene perché dice proprio così al versetto 18 del 7 ma quale Dio è come te che perdona l'iniquità e passa sopra la trasgressione del residuo della sua eredità egli non conserva per sempre la sua ira perché prende piacere nell'usare misericordia egli avrà nuovamente compassione di noi calpesterà le nostre iniquità tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati tu mostrerai la tua fedeltà a Giacobbe la tua misericordia ad Abramo come hai giurato ai nostri padri fin dai tempi antichi e anche qui ci troviamo di fronte a sicuramente l'incomparabile giustizia di Dio ma anche l'incomparabile compassione di Dio allo stesso tempo perché ha una una compassione straordinaria straordinaria che va veramente al di là di tutto e la terza cosa ve l'accenno solo e poi la ripeto potete ascoltarlo nell'altro studio l'altra cosa incomparabile è quello che Dio richiede perché Dio in questo passo dice io non sono uno che vi chiede i sacrifici che vi chiede di fare questo io quello che voglio invece è la giustizia è il vostro cuore voglio che voi vi comportiate e camminiate come io vi ho detto di camminare quindi questo ripeto Dio ci tiene a dire io non sono come gli dèi che gli altri adorano non sono come gli dèi che i vostri popoli intorno a voi adorano e che voi state imitando io sono un altro tipo di Dio la mia giustizia è incomparabile la mia compassione è incomparabile quello che vi chiedo è incomparabile a qualsiasi altro Dio io sarò un Dio che giudicherà io porterò giustizia e perdonerà e io porterò restaurazione ma tutto questo si compirà come Dio come Dio ha deciso e sicuramente non tarderà e Michea è un profeta in cui il senso della giustizia di Dio credo venga veramente esaltato è il senso dell'ingiustizia che esiste nel mondo da parte ripeto sia dei leader religiosi che i leader insomma economici è una cosa che viene anche descritta in modo molto molto chiaro quindi portatevi Michea nel cuore per questo lasciate che secondo me ci apra gli occhi su certe situazioni ci mette in guardia se stiamo cadendo in questo se forse vogliamo ascoltare solo quello che ci piace se forse in qualche modo non ci disturba se il mio benessere va a discapito o se dietro c'è lo sfruttamento di qualcun altro cerchiamo di essere sensibili a questi temi cerchiamo di gustare e di tremare di fronte al senso della giustizia di Dio che è qualcosa di grandioso e cerchiamo anche quando lo rileggete rileggete con attenzione i capitoli dedicati alla restaurazione a questo tempo che verrà perché è descritto e poi questo inserimento di Gesù cioè di questa profezia che verrà a qualcuno solo Gesù poteva essere una guida veramente che poteva mostrarci la via di Dio nessun essere umano poteva farlo e quindi Gesù è dovuto venire lui stesso per mostrarci questa via per essere questa guida il nostro pastore il nostro re tutto quello che il popolo di Israele ha fallito nell'essere Gesù l'ha adempiuto ha ripercorso queste tappe e lui lo è stato e loro lo hanno aspettato veramente secondo me come l'assetato nel deserto aspetta l'acqua e io prego che a volte leggendo queste cose in noi si crei quella stessa sete di questa giustizia di Dio tanto che ne avremo così tanto desiderio che riusciremo a cogliere anche quanto sarà bello quando lui ristabilirà ogni cosa e poi riusciremo a cogliere la bellezza del fatto che noi possiamo già adesso un pochino un pochino nella nostra parte portare questa giustizia la considerazione del più povero la profezia vera possiamo portare un po' di questo già adesso nella chiesa dove siamo nel posto dove Dio ci ha messo e questo è un bellissimo un bellissimo privilegio nell'attesa di quello che poi verrà e che in Cristo già esiste